A spasso per Varese, ma con un punto di vista diverso, quello di chi è costretto su una carrozzina. È l'esperienza che Mirko ha voluto condividere con noi, grazie all'iniziativa di sensibilizzazione organizzata dall'Associazione Articolo 3 di Emanuela Romeo e Francesco Marcello. Percorse da lui e dalla sua sedia a rotelle, la città presenta ostacoli e trabocchetti che i più fortunati non notano neanche, scalini, buche, dislivelli, pietraie, dettagli per molti di noi, vere e proprie trappole per Mirko. Alcuni bar, alcuni pub io li evito alcune volte, ma non per altro, perché magari c'erano problemi del bagno, alcuni hanno problemi dell'accesso, alcuni sono anche irraggiungibili per me, ma parlando anche di strade, di pietrini, parliamo di questi che ci sono in giro ed è una cosa un po' impossibile, però per fortuna che ho qualche amico che mi aiuta ogni volta o addirittura gli stessi proprietari del bar. Ed è proprio la dipendenza dall'aiuto degli altri che a Mirko dà fastidio. Vorrebbe potersi muovere senza chiedere una mano a nessuno, contando su spazi e infrastrutture veramente accessibili. Invece così non è e persino un'esigenza fisiologica in Piazza Montegrappa diventa un calvario. Abbiamo un bagno pubblico qua sotto in Piazza Montegrappa che è praticamente chiudere quattro e quindi non si può già andare più. È vero che uno si può appoggiare fino alle corti a Varese, però deve arrivare fino alle corti, cioè se mi scappa adesso io devo arrivare fino là. Per non parlare del biglietto da visita della città, i giardini estensi, imprescindibili per chiunque conosca Varese, impossibili per lui. Abbiamo un esempio proprio eclatante qua a Varese, parliamo di visto che si chiama giardini estensi, città giardino, i giardini estensi non potrei andarli così in carrozzina, non posso andare dovunque a vederli. Senza contare che poi ho anche la casa a Ferrara all'ido degli estensi, che è la stessa famiglia, solo che però vedo che a Ferrara dove vado io al mare, quei certi barrile erano abbattute o sono venuti comunque incontro a persone in carrozzina, perché lo sanno che se fanno tante cose per gli disabili il turismo è il doppio di quello che è, lo hanno scoperto al mare e non sto andando lontano, cioè l'ido degli essensi e i giardini essensi non si organizza per queste cose. Poi il viaggio si sposta poco più in là, tra via Volta e Galleria Manzoni. Attraversare la strada è problematico, tanto che spesso gli stessi commercianti escono di persona per dare una mano. Devo semplicemente dire che comunque i marciapiedi non sono idonei per le persone che comunque hanno delle difficoltà, motorie, di sedia a rotelle eccetera eccetera e noi anche qua dobbiamo aiutarli per salire i gradini. Quindi è inutile che mi fanno una ciclabile e non mi controllano questi discorsi qua, perché comunque questi qua sono cose essenziali per loro. La ciclabile, che vadano giù al lago e ciclabile ce n'è a go-go. Paradossalmente alcuni scivoli pensati proprio per agevolare le sedie a rotelle sembrano mal concepiti. Ecco questa è una piccola discesa, uno dice ok c'è un passaggio, no perché in realtà le strisce pedonali sono bloccate, lui arriverebbe fino in fondo, i nostri amici arriverebbero fino in fondo, devono frenare e poi girare. Quindi l'unica cosa che possono fare è fare tutto il giro intorno al muro qui e passare da quella parte. Utilizzano questa salitina per salire ma anche qua senza la forza di un braccio esterno che lo spinge da dietro è difficoltoso. Alcune volte le barriere sono effettivamente sparite e la città diventa più percorribile, altre volte per procedere di pochi metri occorre prenderla alla larga. E questo è il gradino che lui dovrebbe scendere per evitare quella discesa pericolosa. Sai quanti passeggini mi sono visto che tic 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 che a momenti cadono pure loro col bambino. Quindi lui c'è lì? No qua no, devo trovare indietro. Ok. Comunque è molto pericoloso. Qua è curiosissimo. Infine zona stazione dove Mirko si rivolge direttamente a Trenord. Anche solo per andare a Gallarate. Io il treno devo prenderlo dal primo binario. Non posso andare a prendere il treno dal secondo binario perché ci sono le scale. E quindi è già una difficoltà. Io mi sono trovato in certe situazioni anche con mia mamma. Aiutami a portare giù la carrozzina perché se no non ce la faccio prendere il treno. Come abbiamo visto alcuni ostacoli sono figli di un'altra epoca. Anni nei quali le esigenze dei disabili non venivano prese neanche in considerazione. Ultimamente la sensibilità è indubbiamente aumentata ma come ci ha dimostrato Mirko di strada da fare ce n'è ancora tanta per lui e per noi.